Eccolo lì Bene ragazzi abbiamo perso uno Ragazzi abbiamo finito la Fungitopa che cos'è la PS2 No è un'altra quella Loro sono i local di qua E vabbè comunque adesso andiamo a fare PS3 PS3 e poi basta Le shoes Le shoes PS3 e poi basta Che bel trerino raga Se non parlo scusate ma Abbiamo fatto una pedalata di Due riete più o meno E poi il sentiero non lo conosco quindi Oh Grazie a tutti. Ma ora è tutta così questa? È tutta scassata così, è bella tecnica. Beh, da, questa parte è qui è divertente. Beh, da, questa parte è qui. Beh, da, questa parte è qui. Vai, vai, vai. Che linea! Eccolo lì! Allora, c'ho il video. Tutto a posto. Bene, bene, sto video qui è spacca di brutto. Questa è... Ha provato a fare il nuovo... Ha fatto il bimbo. Mi sono impegnato con il bimbo. Sembrava... Sembrava un pinguino. Ha fatto... Vabbè, Biff, tutto a posto. Sì, siamo amiciato il bimbo. Non mi va male. Anche perché se finivi di giù, cioè se finivi giù... È scatenato, è scatenato oggi, raga. Sì, è scatenato oggi. Bella, bella, però mi piace. Povera biciclettina. Bene, raga, dai. Basta, finito? No. No, ok. Non mi caga nessuno, bene. Ah, lui è l'uomo. Biff, cosa ne pensi delle tue skill? Illustra tutti i grandi follower che mi seguono. Diciamo che oggi ho peccato a meno stress. Ahah. Per il resto non sono andato mal domanda. Mi sto prendendo anche seriamente. Ah, ma inza qua! Ho trovato a visare, eh. Ho trovato a visare, eh. Ho trovato a visare, eh. Oh. Ho trovato a visare, eh. Ah, madonna, uh, sto pezzo qui ho tirato i jolly della vita. Questa l'ho distrutta, altro che di Haka, bella santa, bene raga, queste erano le piastre di Canepari, a bomba, era un bot che non facevo una girata del genere, se il video vi è piaciuto lasciatemi like, se no non so cosa dirvi, seguitela al GP Crew, esatto, seguitela al GP Crew e niente, ci vediamo al prossimo video.